Vincenzo De Luca non perde occasione per ribadire la propria determinazione a correre per il terzo mandato alla guida della regione, con o senza il sostegno del suo partito. Il governatore rivendica il diritto di portare a compimento il suo programma, sa che il Nazarena non ha molte alternative su cui puntare e alza l'asticella lasciando intendere che lui ci sarà a prescindere, anche a costo di rompere con il partito. Rottura che restituirebbe al centro-destra un'occasione d'oro per riconquistare Santa Lucia, a patto ovviamente che la coalizione si trovi quanto prima su di una linea riconoscibile, muovendo dall'indicazione del candidato alla presidenza. In campo c'è innanzitutto Fulvio Martuscello, che è forte dell'ottimo risultato ottenuto alle europee, ha posto la propria candidatura a servizio della coalizione, senza porre veti ma evocando una soluzione in tempi stretti che spetta solo al tavolo nazionale. Quindi c'è il viceministro degli esteri Edmondo Cirielli, riferimento di punta di Fratelli d'Italia in Campania, che dopo l'uscita di scena dell'ex ministro della cultura San Giuliano è l'unico nome spendibile per i patrioti. Proprio Cirielli ha lanciato in queste ore un messaggio molto chiaro all'elettorato campano, dicendosi estremamente scettico sull'autonomia differenziata, preoccupato per le conseguenze della riforma Calderol ed in particolare per le richieste di Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria su funzioni strategiche quali il commercio estero, la cooperazione internazionale e i rapporti con l'Unione Europea. Un modo per allinearsi alla posizione di Forza Italia, partito di cui Martuscello è massimo riferimento in Campania, che da mesi reclama la necessità di approvare i livelli essenziali di prestazione per scongiurare sperequazioni e conseguenze nefaste per il mezzogiorno. Sullo sfondo una novità tutt'altro che imprevedibile che arriva dal Movimento 5 Stelle. Il vice presidente della Camera, Sergio Costa, ha messo a disposizione la propria candidatura per la presidenza della regione Campania. Lo ha fatto a margine della festa del Libro di Napoli, affermando che dinanzi ad una chiamata del territorio non esiterebbe a scendere in campo. Un modo per offrire al Nazareno un profilo alternativo a quello del governatore, posto che l'ipotesi Roberto Fico resta comunque in campo. Il punto è che in questa fase il Movimento 5 Stelle è impegnato in una operazione di riposizionamento che mette in discussione il cosiddetto campo largo e le parole di Costa vanno anche interpretate come un segnale proprio al Nazareno, un segnale che certifica l'indisponibilità a sostenere il terzo mandato di De Luca. In un modo o nell'altro, a queste condizioni, il centro-sinistra appare destinato a spaccarsi. Si dirà che manca un anno al voto ed è vero, ma è altrettanto vero che se Martuscello ha ragione da vendere nel reclamare una soluzione in tempi stretti per il centro-destra, stesso discorso vale per il centro-sinistra, che sul terzo mandato dello sceriffo rischia seriamente di implodere.